Il 22 gennaio 2010 qualche cittadino di Locate ci ha segnalato che da qualche tempo è stata abbandonato in questo luogo sulla rotatoria della Venturina, questo pacco regalato al territorio di Locate, sono una serie di tegole di vecchi pezzi d'amianto utilizzati una volta probabilmente per ricoprire i tetti, che qualche simpaticissimo signore molto attento al rispetto dell'ambiente e dell'educazione civica non si è fatto scrupoli ad abbandonare qui in mezzo a questo spazio pubblico che è la rotatoria della Venturina di Locate Triulzi. Locateviva.it vuole segnalarlo che probabilmente gli addetti ai lavori hanno già inviato qui qualcuno per recintare e coprire con un telo questo materiale, ma pensiamo non sia sufficiente questa provvisoria soluzione. Quindi semplicemente come documentazione a testimonianza dell'inciviltà di chi non si fa scrupolo a gettare nell'ambiente di tutti, ciò che invece dovrebbe essere smaltito nelle apposite discariche che raccordano materiale rifiuti pericolosi. È un atto semplicemente vergognoso di inciviltà che vogliamo testimoniare come documentazione per gli addetti ai lavori e perché intervengono quanto prima per risolvere questo problema.